Ciao a tutti gamers, noi siamo Sara e già Marco di Games Lovers Benvenuti su un nuovo video di Naruto Connection Ragazzi oggi siamo all'episodio finale Forse all'ultimo episodio Io penso di sì, siamo praticamente al 50% Dell'ultimo episodio Esatto Abbiamo visto la storia di Kaguya Sì Abbiamo visto la storia di Indra e Ashura Ashura, Ashura E adesso E ora Panoramica della Ressurrezione, un video Sì esatto Allora, Kaguya perse la battaglia contro i suoi figli Ma prima di venire sigillata generò lo Zetsu Nero Come estensione della propria volontà Ah Zetsu Nero vedi è l'estensione della volontà di Kaguya Fatti collegata a Kaguya, non a Madara No Tutti pensavano che fosse collegata a Madara Allora qua Lo Zetsu Nero era figlio di Kaguya Manifestazione fisica della volontà della madre Pertanto aveva l'obiettivo di riportarla in vita Esatto Così ha fatto Esatto Contro Madara Contro Con Madara Sì Lo Zetsu Nero incitò Indra all'Ira Insinuando che fosse stato ignorato come successore del Nimi Vedi Zetsu ha creato anche questa divisione fra Eh allora è stato lui a creare Diciamo è lui che incita l'odio e l'ira in uno Esatto Vedi coincinando che fosse stato ignorato come successore Inoltre manipolò il senso di inferiorità e il desiderio di vendetta dei discendenti di Indra Mentre ha creato tutto lui Ha creato tutto lui Tutto Zetsu Asura e il clan Senju Indra e il clan Ushika Sì ma questo odio l'ha creato lui Esatto Questa divisione l'ha creata lui L'ha incitata lui L'ha incitata lui Zetsu Nero orchestrò una storia di guerra tra questi due clan Vincolandosi alla reincarnazione di Indra Madara Sì la reincarnazione di Indra Manipolando abilmente Madara Trasferendo un'enorme quantità di chakra Raccolta dai ninja usando lo trucco yomi infinito Liberò Kaguya dal sigillo Esatto ed è proprio quello che è successo adesso Sì Ma dimmi te Zetsu Nero Ma avremmo detto Zetsu Nero che c'è dall'episodio Sì Meno uno No i primi episodi di Shippuden Sì esatto C'è Zetsu Nero che lo vedi così Che sembra L'aloe vera Esatto l'aloe vera L'aloe spinosa L'aloe spinosa Ok Adesso La verità La verità Stavo per leggere la vera Non so perché Poi invece la verità dietro il velo Esatto Kaguya Non è boss fight ragazzi Mi aspettavo una boss fight Avrei detto di sì Sì sicuramente avrei detto di sì Lo scontro finale No quello è capitolo Ah ma sì sono ritardato La verità dietro il velo Vediamo Probabilmente siamo contro Naruto Zetsu contro Kaguya Eh beh Eccola Eccola Ah addirittura E già Madara L'aveva messi bella in difficoltà E già Madara Cazzo Ah sì Ah sì Cavolo Potete ridurre di vinta Kakashi Uh doppio di vinta Doppio Oh Susano perfetto Kakashi Esploso Ma 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 Hanno completamente saltato la morte di a vita No L'aveva fatto prima Capitolo di a vita Vabbè Sì Proprio la morte Sì È vero però È ora di riunirlo Cambia Kuga Eh sì Kimimoro Deriva appena dal clan Kaguya È vero È proprio il suo cognome Gli clan Yuga deriva anche loro dal clan Kaguya Esatto Sconfiggi Kaguya Sì Ci abbiamo Kuga Concludi il 7% Finisci il 7% Che cazzo di retta Ok andiamo Andiamo Proviamoci un po' ragazzi Contro Kaguya Che cazzo era? Che ha cambiato Ha cambiato dimensione No Cos'hai lanciato? Non lo so Ha lanciato un pianeta Prendi questo Donna coniglio Donna coniglio Sakura sei inutile come al solito Che dici Dal primo contro Li fai per 10 mesi Ho presa Sì l'hai presa Non so come l'hai presa Sasuke fiamma nera Che dici Suolante Di volutore di sabbia Ma tolto Questa era pericolosa No Pensavo di prenderla C'è tippata Sakura ora Aiutami Sì è svenuta Sakura sei inutile come È svenuta Ma In testa Sasuke No peccato L'ho ancora presa No Si fa Svegliare Non la far svegliare Assolutamente Non c'è la ossa Non c'è la ossa Non c'è la tecnica legame Ti prego Prendila Ripalla Ma dai Ti prego Non la presa Nessuno Prova di nuovo Prova di nuovo Subito triangolo No È impossibile Eh no Sì È presa Ma non c'è la legame Eh vabbè uguale Dove finirla con questa 27 volpe novecone Questa è una storia degli ninja Idiota Bella Un doppio rasa di shurika Uno rosso e uno bianco Sì bellissima Peccato Ha schivato tre Ha schivato il buco nero Ha schivato tutti e tre Sì Ah anche tanto Buono Credibile Buono Oh Eh sì Qui vedi il potere del sole Eh sì Dell'ombra Della luce dell'ombra E saccura In mezzo al capo Ma si è gillata Eh sì Sei qui Eci Bakuten sei In fine A sigillare Ah si è richiuso tutto Ok Ah con sole e luna Eh sì Ecco i demoni E mi sono liberati E mi sono liberati Ponendo fino alla lunga e violenta guerra Cavolo Eccoli Quindi torno a tutti Eh sì Eh sì Oh deve evitare Sei vivo Eh Ho vita Ho vita Madara Anche lui Ora è morto Veramente Eh ora si Allora sbaglio No Ecco E dai È vero Buon compleanno È vero Tutto questo è il suo giorno Sì è vero In un giorno solo Ho vinto gli alito 6.000 episodi fa Sì 127 episodi fa Domani è il tuo compleanno Ora è il suo compleanno E riperdi il genitore E così Che la via E dai su Che luce È mortale Ok I'll tell her everything Dove anche gli altri Dove Rama Ah sì Tutti Hashirama Terzo Kage Ah sì Eccoli lì Eccoli lì Allora La non la non la Sucuyomi infinito Giustiziati 5 kage Che? In che senso Giustiziati 5 kage Rivoluzione Rivoluzione Cioè libera tutti però Poi Vuole avanzare 5 kage Cerco te Ehi sono lì dentro Eh 9 Eh sì La battaglia Dai si concluderà qui Ah proprio tutto ora Eh sì Oh Hai nemmeno tempo di riprendersi un attimo Bellissimo Bella si sta parte Ci poteva stare anche il piantino Terminato Allora Rivoluzione L'ultimo video E poi l'ultimo scontro Esatto Andiamo Rivoluzione Sasuke dichiarò che avrebbe giustiziato i 5 kage E vincolato con un altro illusore ai cercoteri Prima di catturarli con il Chibaku sensei Ma dai Eccoli Affermò che avrebbe distrutto quello che i kage avevano costruito Per ricreare un villaggio privo di tenebre Quello che voglio Quello che sto portando È una rivoluzione Sasuke voleva creare un nuovo mondo dei ninja Mentre Naruto voleva salvarlo Cavolo Per porre fine a questa lunga faida fratricida Naruto doveva affrontare Sasuke Nella valle dell'epilogo Ovviamente Ovviamente Qui Madonna Ascirà Eh sì E qua C'è lo scontro finale Non mi sa Esattamente Eh La battaglia finale La battaglia finale Mamma mia Eccola Mezz'ora 30 minuti di Facciamola ragazzi La facciamo tutta La battaglia finale Eccola Eccola Naruto Sasuke Sasuke Eccola Ma Eccola Eccola Eh sì Esatto E lui aveva detto Va a cominciare da te, tutto deve essere nuovo Ah sì E' l'ultima battaglia Fatta il boss fight Concludi con il 60%, metti 3 arte ninja e una combada di ricordi La ultima battaglia 1 E' già arrivato con un Rasenshure con il testa 2 3 Fa un Rasenshure per una... Tantissima le torse C'è già una... una barretta della vita a me Sì, perché vola E' chiedi? Cazzo E' chiedi della mano celestiale Occhio 12 1000 Falchi 12 Cos'è più l'Odice? L'Odice è una pietra E' infatti Oddio, una pietra... Un'Arsi Chi sembra? Eh Ma non è già asfaltato No, fare un accomodamento in colpi è quasi... È impossibile Eccolo Schiava tutto C'è l'ultima barretta Uuuu Qua c'è la barretta E' esploso No, è tornato su Ora corro Devi stimare Così Ti anticipa Eh, ho vogliato direzione Ti anticipa Occhio Non l'ho più preso ragazzi No, non l'ho più preso ragazzi No, non l'ho più preso Non l'ho più rilassata Ci scende Oh, quanto fa ero facendo? Non l'ho più pietra Non l'ho più colpito Oh, tasti A B practici, non l'ho più preso gli ultimi colpi, niente, è finita oh, oh, Susano, no, perfetto, subito Susano perfetto istantaneo ma è stato un po' lento però questo è l'ho preso la volpe bello bellissimo oddio non avevo capito che era così veloce oh ah, i circoteri cavolo sono di dentro mi sta lanciando i circoteri ma se ne hai messo in una schiena il potere si fa potenziale si potenziali lo Susano, ragazzi cosa cavolo è con Susano si, ce l'aveva già si Kurama e noi ci siamo purama uh tre kurame tre kurame sto facendo fermando di kurama ma che cazzo no triplo kurama si ma bellissimo si beh esplode il computer ragazzi il mondo il pianeta oh perfetto cavolo da aiuto da aiuto vedi che stanno se lo computer si 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 stanno prendendo esatto lo schermo ragazzi io non so ma mi piace più molto più il Susano per fare il Sasuke kurama con le tre facce così non mi piace si in effetti è vero quello è vero l'hanno impostor tirata troppo si è detonato tutto ho preso bia mi ha fatto cagare a un certo punto ho smesso di di colpirlo è crollato tutto si ah no oddio senza scendere la situazione appareva disperata disperata ma poi cosa è vado ho vito è è è così facile per il ritorno connexion connexion con Sasuke non non è no è no 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 connexion Kakashi con me è ma è sì è è è è è è sì Ah sì Ah mia Guarda Guarda che figlio Agarato E' un po' di scoteri Sì 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 Fatti E' un po' di scoteri C'è un po' di scoteri Sì Cò chuta Sì 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 Che Sì Sì Io ero felice, volevo essere il tuo amico e venire a te più di più, ma non ero. E io ero molto dolenta di te. E tu eri buoni a tutto. E tu eri buoni alla vita. Probabile. Ho preso? Sì, sì. Universo è come sei. Sì. Mamma mia. Occhio. È schiato. Ma che? Ci vai te dietro? Sì, sì. Non ho fatto niente. La rasagna normale. No, ma finì niente. Non mi sto tornando qui niente. Eh sì. Oddio. Ma perché c'è i tasti? No. No, no. Come va? Non lo so. È vero? Perché devono finire il Parlamento. Ah. Ero arrivato già al limite della vita e non finire. Hai tornato qui? Non l'avevo già fatto in passato. Siamo tornati qui? Sì. Guarda che prima non eravate così. Siete tornati qui. Non eravamo a strapparti. Esatto. Però eravamo così. Ero nel passato. Ero nel passato. Ero nel passato, sì. Non gli stai prendendo niente. Mi muovo? Da mezz'ora. No, ora si. No, ho schivato il proiettile. Mi sta beccando con mille, duecimila... Solo per i shuriken. Ma con la tua maniera anche. Sì, anche. Ecco. Ecco, ancora. Forse. C'è chi ho? Un tempo lo ha avuto. Ma... Ecco, lo volevo. Eh, sì. Eh, piccolini. Nooo, adesso l'inizio. Sì, l'inizio questo era. Oh! Dai, usi lui da volte! Bello! Bellissimo! Che miseria! Che botta! Che cavolo! Bellissimo! Questa cosa faceva? Alla zappata! Non puoi segnare l'asma! Oh! Eh! Non mi viene? Non sca prendendo, ragazzi! Siamo parlando di continuo! Preso! Bello! Bello! Caricati! Bello! No! Naruto con la volpe ha una coda! Eh, sì! Stranissimo! Vederlo dopo un bel po' così! Ah, eh! C'era qualcosa! Sì! Ah, ok! Ok! Siete sempre più ridotti male! Sì, senti, è stato fermo sono tutte qua! Sì! Sì! Eh, anche lui subirà! Sì! 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 No! No! Sì! Preso! Sì! 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 No! No! Sì! Sì! Un po' fermo! Ma è ancora! Ok! Ci siamo, mi sa! Ahia! Tu! Non ce la fanno più! No! Si sono sfatti! Si sono sfatti! Si sono sfatti! Sbaglia! Hanno sfatti anche Mira! Sì! Esatto! No! Ah, quando erano piccolini! Sì! Vabbè! Cosa? Cosa facciamo con la fiammaniera? Ah! Non penso proprio! Come sei sasuke? No! No! Sono curioso! No! No! Non sapevo! Non sapevo! Ragazzi! Non puoi fare niente! No! Non fa niente! Non ci credo! Non ci credo! Bellissima! Poi ci parteci addosso! No! Guarda! È bellissimo! Ok! Ma non ho ancora sostituzione! C'ho niente! Niente! Zero! Solo il cerchio! C'ho solo... Solo il cerchio! Non ci credo! Basta! Fa solo questa cosa! Guarda! Guarda! Non c'è anche i furichini! No! Vabbè! Stupid! Stupido! Volete a farla co... Non fa niente! No! 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 Bellissima sta cosa! Si! Questa assurda! No! Le teste sono partite! Non c'è neanche più... Non c'è più il... Il chakra! E quello da quante sono partite? Eh si! È da prima! Non c'è più il chakra! Non c'è più niente! Che cosa c'è il vino? Vita gialla di entrambi! Ma mi muovo! Mi muovo davvero! Oddio! Vuoi tirare i pugni? No! 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 Aspetta! Sta arrivando! Dai! Dai! No! Non c'è! Ha fatto prima lui! No! Dove riuscirci anch'io! Alzati! Insomma! Te ne dai? A me si me le da! E mi ha fatto un moto di vita! Ora l'ho preso! Ora si! Cavolo! Oh vabbè! Come ho fatto! Ragazzi ecco perché dura mezz'ora sto video! Sto combattimento! Veloce! Occhio! Oh! Ma che! Cioè l'ho preso in pieno! Mi sa che uno per uno era! Stivalo! Cavolo! Testata! Guarda la vita! Si stava diminuendo! Si! Si stanno ammazzando! Si stanno distruggendo! La valeta Naruto! Si! Sarebbero morti entrambi! Si! Oddio! Non c'è più niente! Travolo! Ma le sta prendendo un po' di più sul piano! E ora si! Ma fermo! Ora è fermo! Ora! Ma dai! Non ci posso chiedere! Non c'è più niente! No! Non c'è più niente! E' finito tutto! La tua vita è finita prima dalla tua! La mia vita è finita! E' esplosa! Ma dai! Ah ragazzi! Ah! Ah è un morto il fatto! Stavo molto peggio! Buono! Le S non esistono! No! Quanta potenza ce ne sono tirate! Si infatti! Non avevano... Non c'era! Non erano decolati! Non fatto volare! Incastrata nelle rocce! E adesso? Adesso? Mezz'ora di video! Cavolo! Lo scontro finale proprio! Com'è all'inizio! Che amma nera! No! Fanno come all'inizio! Vanno uno contro l'altro! Formano la bolla! Ah ecco! Ma... Si! Oh cavolo! Tu hai fatto la base del shuriken! Oh cavolo! Cavolo! Che bello però! Bellissimo! Ah! Come si sono incontrati! Si! Oh! Che bello! Sasuke! Sasuke! Ah! Ah! Che scuola! Ah! 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 Ma bolla! Si! Eh! Se lo vedete che facciano la bolla! Ah si! Ma stanno disintegrando tutto! Ah si! E loro erano lì in mezzo! Tutto! Tutto! E' già qualcosa! Fattore segreto! I baby! Si! Piccolini! Ah! Il segno di... Eh! Di riconciliazione! Cavolo! Ho distrutto tutto! Gravi ferite! Gravi ferite! Si! Bastanza! Ah! A meno male che sono solo feriti e non morti! Infatti! E che avevano detto che morivano! Isporsivi! Bisogna muoversi! Uno a fianco all'altro, salva del fiume! Ammise finalmente la sconfitta! Sasuke! Sasuke! Ammise la sconfitta! Ciao! Si! E' una cosa snella! Se la sconfitta! Si! Sì! Si! Obvio! Sì! Non è così! Sì! Prendiamo! Cosa! Non vale mai più l'interno del genere. Oh Duzo. Sta piangendo Sasuke, da quando? Taci perdente Tutto distrutto In segno di riconciliazione l'hanno fatto in statue? Sì, esatto Ok Ah, non c'era ancora liberato Ma L'ha chiuso? L'ha chiuso a mettere un endo a loro lungo rinforzamento Caspita ragazzi, bello lo scontro finale Eh sì Molti giorni Ah Kakashi è una ruta Settimo Hokage Conclude la storia di Naruto Uzumaki Bello con la volta che c'è per te Cavolo Bello è? B C'è schifezza Bello però Eh sì, bellissimo Bello, bello Piange Uh, di poco Ho vinto io Di poco E cavolo ragazzi, abbiamo finito veramente la storia Finito Segno di riconciliazione Ah, mi fai di capito l'altro scuola Eh, venga Sasuke Dei due eroi che hanno salvato il mondo dei ninja Quale ti ha conquistato? Eh, Sasuke che ha formato un legame con suo fratello e miglior amico Abbandonando il suo scuro desiderio di vendetta Naruto che ha superato la sua esistenza solitaria Ha salvato il suo miglior amico ed è stato finalmente giocato nel mondo dei ninja Ah, boh, questo è Oddio, ecco una battuta Questa è no, Sasuke ha formato l'unicame con suo fratello e miglior amico Abbandonando il suo scuro Oddio, non saprei sinceramente Questa è Cioè, entrambe alla fine Ma queste qua sì Quale ti ha conquistato? Eh Le due eroi che hanno salvato il mondo dei ninja Devo dire che Sasuke, ok, sarà magari il personaggio che vuoi Però è sempre stato coerente con quello che ha vissuto Eh sì, infatti E Naruto, ovviamente, anche lui Eh, oddio Naruto, probabilmente Ha votato il suo miglior amico ed è il miglior amico Forse direi Naruto, dai Direi Naruto Però sì, Sasuke ha di buono questo Che è sempre coerente con il suo che succede Sì, sì, esatto Vediamo un po' Ok, 63 è Naruto Ok Fine, ragazzi Mamma mia, completati Le S non esistono No, le S mai prese Non lo so, fa tutto da solo Sono state ripristinate Un libro Alla storia Salvezza Eh, l'Elemita A Gromo Sì Giraia Giraia Che è? Cosa? Cosa? Oh, questo individuo è al suo centro Che individuo? Non è tutto Adesso Cioè, mi viene da Sì Di completare il racconto Che devi il titolo? Oh, ti è sempre stato un libro di Giraia? Di Giraia? Tutta la storia Questa storia È un gioco Il racconto del tuo cuore Come lo chiama? Naruto 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 Zumaki Non lo so Il racconto di Naruto Zumaki Bellissimo, ragazzi Bello Ancora Cosa? Un altro video Più di video, ragazzi Ragazzi, dopo i titoli di Soda I sogni affidati al mio successore Oh Aspetta, vedi Eh Aspetta Giraia Stavano del libro a Goromo La continuazione della luce del mondo irreale Della sua Non ho letto No È stato velocissimo Sì Oh, finito, ragazzi Ok, ragazzi Mamma mia Ho completato la storia di Naruto Zumaki Sì Ho completato la storia Bellissimo Bello Molto stringata Però Le cose principali Ci sono tutte Beh, ovvio Chiaramente Dal primo all'ultimo Bello però E niente, ragazzi Abbiamo completato Tutta la storia Sì Sì E direi che per questo video Possiamo concludere qui Sì Fateci sapere se volete Qualche video in particolare Su questo gioco Su Naruto Connection Esatto Vedremo se potremo fare delle challenge Dei scontri insieme Riuscire a prendere delle S Almeno Riuscire a prendere delle S Non è difficile E niente, ragazzi Fateci sapere sotto nei commenti Sì Vi ricordo anche di iscrivervi al canale Se non lo avete fatto Mettere mi piace Attivare la campanella Per essere sempre aggiornati Per quando uscirà Un nostro nuovo video E alla prossima Ciao